Ben ritrovati, nuovo appuntamento con gli approfondimenti di 7 in punto, la trasmissione in cui si analizzano fenomeni, fatti, eventi, situazioni, circostanze con diretti protagonisti della vita pubblica. Abbiamo il piacere questa mattina di avere il nostro ospite Alessandro Perazzolo che è il vicepresidente del consorzio BIM Basso Piave. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei e buonasera e buona giornata a tutti gli spettatori di 37 Gold. Mi presento, sono Alessandro Perazzolo, vicepresidente del BIM Basso Piave e anche consigliere comunale del comune di Iesolo. Difatti noi abbiamo intitolato questa puntata, ci siamo permessi di chiamarla tra mare e fiume proprio perché Alessandro Perazzolo ci fornerà una doppia ottica, quella rivolta all'interno, all'introterra, alla vasta rete di fiumi che caratterizza questo territorio e a quella che è la particolarità di amministrare un comune come Iesolo. Cominciamo dal BIM, anzitutto che cos'è il consorzio BIM? Allora il consorzio BIM, innanzitutto BIM è Baccino Imbrifero Montano, questo Montano perché nasce da Monti, Belluno, fino ad arrivare al nostro territorio che è il Piave. Belluno Treviso e naturalmente provincia di Venezia, ora città metropolitana, fa parte di sei comuni, il Piave, che sono Musile di Piave, Sandona di Piave, Fossalta di Piave, Eraclea, Iesolo di cui sono consigliere e Eraclea. Per cui insomma abbiamo anche proprio una copertura territoriale, diciamo completa. Che cosa significano, cioè che cosa fanno i consorzi BIM? Perché non esiste solo, esiste un consorzio BIM Basso Piave perché esistono molti altri consorzi BIM, si occupano, lei ce ne ha appena accennato, ma nel loro insieme qual è la funzione che svolgono? Allora il consorzio BIM sono, c'è la Feder BIM che comprende tutti questi consorzi, naturalmente il nostro è il più piccolo perché c'è Belluno e Treviso e poi abbiamo Iesolo, Eraclea e gli altri comuni. Naturalmente noi ci occupiamo tutto quello che riguarda la pulizia del Piave, gli sfalci, le sistemazioni delle piste ciclabili, noi abbiamo quasi 40 chilometri di piste ciclabili di proprietà, investiamo ogni anno circa 400 mila euro, dai 400 anche ai 700 mila euro solamente per la sistemazione e il rifacimento delle piste perché 40 chilometri poi calcola che abbiamo anche piste ciclabili che non sono nostre di proprietà, dunque ci sono degli spropi, delle proprietà che ci vengono date per un quantitativo di anni e investiamo appunto 700 mila euro perché abbiamo molte frane lungo il Piave e la Golena e questo non ci dà, le spese sono troppo alte, non ci dà la possibilità di andare a incidere lì ma facciamo dei bypass. Ah per cui insomma c'è anche delle difficoltà che comporta la composizione idrogeologica del terreno stesso. Voi vi occupate, ci spiegava, di queste piste ciclopedonali. Ciclopedonali sì, sono delle, queste piste ciclopedonali oltre i 40 chilometri, ecco questo voglio specificare una cosa molto importante, noi abbiamo varie iniziative che sono oltre la polizia del Piave, le piste ciclabili abbiamo anche il corso sicurezza perché abbiamo un ente che lavorando con tutti questi sei comuni che io faccio la parte come vicepresidente non è facile perché abbiamo i comuni, noi come ente diamo ogni anno un quantitativo che può essere i 30 ai 20 mila euro sempre in uguale misura e li investiamo però per dare anche sui comuni un aiuto al bilancio nostro economico perché sappiamo che col patto di stabilità abbiamo molte difficoltà e magari i 30 a 40 mila euro che noi diamo ai comuni, esempio in due anni che io sono lì, abbiamo dato un 50 più 70 mila euro in tutti i comuni e questi hanno dato la possibilità di finire delle opere tipo guarderai che costeggiano il Piave o magari messi in sicurezza di qualche argine e ha aiutato anche il bilancio del comune, di ogni comune che faccio parte. Ma questa disponibilità finanziaria da cosa deriva? Allora questa disponibilità finanziaria, allora innanzitutto il BIM si autofinanzia con i canoni, sovra canoni Enel perché abbiamo delle centrali elettriche da Belluno in poi e noi essendo il comune diciamo la provincia più piccola perché a fine Belluno e Treviso poi siamo noi che siamo più piccoli, abbiamo l'incirca ogni anno dai 400-450 mila euro di contributo. Poi naturalmente non ci finanziamo solo con quello, ci sono dei bandi che sono o regionali, nazionali, europei, appunto prendo spunto che ringrazio anche la regione Veneto perché in questi due anni ha dato la possibilità di darci due bandi dove abbiamo portato a casa dei soldini che ci sono serviti per richio per queste opere. Pensavamo quando lei parlava di piste ciclopedonali, a come è cambiato anche il turismo da questo punto di vista. Noi pensiamo al turismo del nord Europa che già 20-30 anni fa praticava il turismo in bicicletta, ecco come si chiama in termini. Adesso ha avuto una diffusione abbastanza allargata, cioè anche in Italia ci sono turisti che non solo prediligono starsene sulle spiagge ma magari girare nell'entroterra attraverso queste vie di comunicazione che rendono anche più agevole il flusso delle biciclette. Sì, allora, su questo è un argomento molto interessante, effettivamente noi vediamo anche i nostri turisti esolani, visto che stiamo a parlare anche di mare, i nostri turisti esolani, specialmente gli austriaci, i tedeschi e quant'altro, cercano queste situazioni e noi avevamo la fortuna anche di avere le valli. Queste valli, questo bene fantastico che non è stato mai in questi anni valorizzato, si pensava sempre, e questo non è contro il lido, contro il mare, ma si pensava sempre al turismo mare. Invece c'è la possibilità di sfruttare l'occasione di avere dei percorsi ciclopedonali o anche in mezzo all'ambiente e alla natura, che è tipo la valle, dove i turisti tedeschi, in base alle nostre cartine che abbiamo fatto, proprio prediligono quel tipo di turista e di turismo. E in più abbiamo anche utilizzato dei percorsi dove abbiamo istituato delle panche, delle cose di sosta che loro diventano mati perché si fanno il picnic oppure si fermano e riescono a capire effettivamente tutto quello che riguarda la natura. Poi abbiamo anche dei percorsi dove, esempio, inseriamo anche le scolaresche che vanno a vedere le bilanze didattiche, spieghiamo quali sono le bilanze, visto che c'è il percorso. Facciamo varie iniziative, esempio per le scuole, tipo anche tempo fa, abbiamo fatto l'uscita anche nel 2015 per l'Expo, abbiamo portato gli studenti anche lì e poi alla scuola può fare i temi o quant'altro. Abbiamo anche uno che suggerisce e spiega cos'è l'ambiente. Ma tornando al discorso, appunto, come diceva, è importante, fondamentale per il turismo anche questo tipo di ambiente perché aiuta veramente lo straniero, anche perché quando arrivi in una città turistica come Jesolo, in questo caso, dai un'alternativa in più al turismo. È un'integrazione dell'offerta turistica. Esatto, è un'integrazione in più. Indubbiamente, non ci sono solo gli appassionati e i fanatici o le fanatiche della tintarella e del mare. Sì, no, se mi permette anche, che non voglio dimenticarmi, abbiamo, noi come BIM, abbiamo nel bilancio nostro, mettiamo sempre un contributo che può essere quei 3.000 euro che vengono spartiti e abbiamo fatto un, diciamo, 300 euro a contributo per iniziative riguardanti ciclo pedonali o il Piave. Esempio, North Walking, quello che fanno, che a volte a noi ci rovino anche un po' le piste, però è molto importante perché ci sono questi appassionati, ci sono associazioni di cani che fanno, magari chiedono un contributo e intanto che percorrono le ciclo pedonali fanno con cinofilo, spiegano il discorso dei cani, poi c'è quello che spiega delle piante, il Piave, il percorso. Cioè, sono varie iniziative che noi come BIM ci stiamo facendo conoscere, perché il BIM è dagli anni 50 che è nato, però è sempre stato un ente non poco conosciuto, però non sfruttato come dovrebbe essere. Anche poco valorizzato. Esatto, adesso questo io le dico, sono due anni circa che sono vicepresidente e tante cose, non le so tutte, ancora mi sto, però ritengo che sia un punto fondamentale per far crescere le zone che entroterra, che non sono state mai coltivate alla fine. Come BIM fate rete, nel senso, avete iniziative in collaborazione con altri consorzi BIM, il suo è Basso Piave, ci saranno anche altri consorzi del Piave. Abbiamo fatto, le dico, il contratto di fiume, che in sintesi è un contratto in cui raggruppa tutte le associazioni e i BIM e quant'altro finché ci sia sinergia tra tutti. Esempio, se un BIM o qualche ente fa qualche iniziativa e noi non la facciamo, ma abbiamo già uno spunto, risparmiamo energie e costi e dunque facciamo questa fusione. C'è in atto appunto questo contratto di fiume, ma c'è anche una collaborazione tra Feder BIM, naturalmente i BIM sono tantissimi, però operativi sono pochi, perché c'è addirittura BIM che non ha neanche la segreteria alla fine, dunque sono più esterni, quelli più forti sono quelli che ho elencato prima, che è Belluno, Treviso e il nostro consorzio alla fine. Sì, una precisazione che crediamo sia doverosa, anche per chi ci ascolta la casa, ricordiamo che i BIM non sono i consorzi di bonifica, è tutta un'altra cosa. No, è tutta un'altra cosa, il BIM è un'altra cosa, non c'entra nulla con i consorzi di bonifica. Però è una valorizzazione del territorio non indifferente, insomma. No, poi c'era un'altra cosa, se mi permette, molto importante, vi ho fatto alcuni appunti, sulla pista ciclabile, ciclo pedonale di 40 km, noi stiamo valorizzando anche l'intenerario Venezia-Monaco, che abbiamo non realizzato noi come progetto, noi abbiamo messo solo il progetto come cartellonistica, tutta la cartellonistica che va… È importantissima. Esattamente, con il nostro logo, perché dove noi inseriamo le nostre iniziative facciamosi conoscere con il logo, perché è inutile finanziare e non sanno neanche da dove vengono questi soldi alla fine. E finito ultimato i lavori in provincia di Treviso, avremo la possibilità di non avere più uscite sulla strada dove passano le auto, ma solamente un lungo percorso fruibile senza intoppi. Qui anche dal punto di vista della sicurezza dei praticanti, degli utenti. Esattamente. Senta, le iscrizioni che avete immaginiamo che non siano solo in italiano. No, abbiamo varie lingue, abbiamo russo, inglese, tedesco, abbiamo le cartine dove spieghiamo il tutto e naturalmente abbiamo una sinergia con gli altri comuni molto forte, perché sapete benissimo che sei comuni, c'è il comune piccolo che magari è invidioso di… faccio un esempio, Sandonà ha 40 mila abitanti, Jesolo ne ha 26 mila, Musilina un po' meno, Fossalta un po' meno, però la stessa quota che diamo a Sandonà o a Jesolo diamo anche agli altri comuni, sia come contributo che anche come sinergia di lavoro e anche come volantinaggio tutto quello che è il settore pubblicitario del BIM, del Consorzio. 40 mila abitanti, Sandonà. Sì, 40 mila abitanti. E invece lei diceva a Jesolo 26 mila abitanti, ma d'estate quanti diventate? Beh, d'estate si parla, arrivano 5-6 milioni di turisti nel nostro litorale e dunque andiamo molto, molto alti. Naturalmente 26 mila, 25 mila abitanti a Jesolo in questo momento, poi sappiamo che noi abbiamo anche parecchie seconde case e dunque calcoliamo anche quei turisti nel globale dei residenti alla fine. Certo che nel Veneto orientale ci sono delle realtà urbane piuttosto consistenti come Porto Gruaro, Sandonà di Piave, insomma, è grosso, ma nessuno è capoluogo di provincia. Il capoluogo di provincia rimane in Venezia, aperto e chiuso a parentesi. Qual è il futuro del BIM? Nel senso ci sono progetti in divenire oltre a quelli di cui lei ha già parlato. Sì, abbiamo in cantiere, abbiamo promosso circa un milione di euro per sei pontili lungo la Piave. Questo milione di euro diciamo che stiamo trattando per fare un mutuo, ma a livello comunale tutti i sei comuni hanno già aderito e hanno già firmato, dunque è già esecutivo e presumo per l'estate, non questa, la prossima, il 2018, di vederli in acqua diciamo. Lungo fluido naturalmente il Piave, sono dei pontili, certi possono farli mobili o certi fissi, hanno delle caratteristiche che sono quelle di track o houseboat o addirittura per quelli che sono amanti del sport, anche delle canoe, fare uscite con le canoe. Naturalmente abbiamo anche indirizzato tutte le opere nostre sul discorso dell'handicap, dunque tutto quello che riguarda quelli che non possono avere certe funzioni o quant'altro, abbiamo la possibilità di dargli anche a loro le sue rampe o tutti gli accessi dovuti. Giustissimo, allargare anche l'utenza, le persone che possono fruire di questo servizio non è indifferente. Diciamo che è un salto di qualità anche che voi rappresentate, perché cioè forse, no, se ne rende conto, non è che non se ne renda conto, lei ci sta parlando di un'azione sinergica in cui ci sono sei realtà municipali che vanno diciamo di comune accordo e questo è già un aspetto crediamo non indifferente, tanto più per una realtà come quella veneta dove il campanile sappiamo che valore ha. Come quello che dicevo prima, appunto la sinergia, ma le dirò che io sono una persona molto alla mano, nel senso che mi piace dire le cose come stanno, ci sono sei sindaci alla fine che si confrontano, quando abbiamo l'assemblea annuale portiamo a casa sempre all'unità il percorso, qualche volta magari c'è qualche sindaco che magari si focalizza su qualcosa, ma alla fine riusciamo sempre a trovare il punto d'incontro. Ma a parte solo il BIM diciamo di sei comuni, c'è un lavoro anche di sinergia all'interno dei comuni anche che amministrano, perché oltre il BIM abbiamo la possibilità che un sindaco chiami un altro sindaco e poi il referente che c'è in questo BIM fa capofila per un altro intervento e c'è questa, ripeto, questa sinergia ma anche fa crescere l'ente e fa crescere anche i comuni e fa sinergia anche con i sindaci. Infatti questa è una cosa a parte ma è nato anche il patto dei sindaci per il nostro mare, per il nostro ripascimento alla fine, il problema che abbiamo dell'erosione. Dunque è sempre, mettiamo nel contesto, un problema che affligge i comuni diciamo turistici. Pensiamo anche per esempio a quest'inverno così caratterizzato dalla siccità, dalla carestia, pensiamo anche al livello dell'acqua nei fiumi, i fiumi verso il mare, cioè tutte le problematiche che ha comportato anche una situazione di questo tipo. Sì, qui è veramente stato un anno un po' stranissimo, difatti abbiamo avuto anche, ci sono anche certi attracchi, certi posti dove spostavano le barche perché si andavano a secca, nel senso che non c'era, infatti questo problema è stato molto sentito, ha causato anche parecchi problemi, però contro il clima non possiamo fare nulla. Non siamo ancora attrezzati. No, perché ci dicono che perché non piove è sempre colpa magari dell'amministrazione o di qualcun altro, non è così, purtroppo il clima è... da una parte dirò che comunque noi siamo contenti perché ha fatto belle giornate e dunque come turismo abbiamo lavorato bene, però da una parte sì, non è tanto da scherzare su questa cosa perché è fondamentale. No, perché poi crea degli squilibri. Esattamente. Poi ci sono il livello dei fiumi e il livello del mare che non si compensano, ci sono, come dire, anche questo flusso salino che entra a far parte del corso d'acqua. Esattamente. Sì, insomma, adesso tecnicamente l'abbiamo messa in termini un po' dozzinali, ma insomma quello si verifica. Quanto le serve l'esperienza di amministratore nel lavoro che sta facendo con il BIM? Tanto. Di consigliere. Tanto. A parte che io aspiro tutto, nel senso che mi fassi sto termine, perché non si finisce mai di imparare. Io sono entrato due anni fa nel BIM, ho avuto la fortuna di essere delegato del sindaco e ho imparato tantissimo, ma ho anche imparato a capire cose che non conoscevo prima, perché quando si passa magari nel territorio si fa sempre finta di nulla oppure non si guardano certe cose. E alla fine quando sei là ti rendi conto la gravità di magari una frana, di un incidente magari perché non c'è il guardrail o di tante cose che non facciamo caso. Cioè tutto serve per imparare. E poi naturalmente come consigliere anche lì se si ha voglia di fare e se si impegna si può fare tanto, perché c'è tanto bisogno di aiuto e di sostegno a certe persone. E dunque tutto insieme è un bagaglio che serve. Pensiamo, lei sta parlando di sostegno alle persone, c'è una casa di riposo che verrà realizzata a Iesolo? Sì, allora la casa di riposo è già partita, qualcuno magari era scettico, però ce l'abbiamo c'era. È una bella struttura perché sono 120 posti letto di cui il 30% andrà ai nostri residenti Iesolani. Una casa di riposo che parte, è partita ed è già a quasi metà. Si presume che in 18 mesi sia pronta, penso per il maggio 2018. E ci sarà anche la possibilità che cittadini Iesolani hanno la possibilità anche di creare posti di lavoro, perché ci sarà anche qualcuno che chiederà anche, avrà la possibilità di portare il curriculum e di essere magari assunto. Certo, sì, per far fronte. Però ritengo che sia importante e fondamentale a Iesolo avere una struttura che effettivamente è vicino al mare, perché noi abbiamo l'ospedale di fronte alla casa di riposo che molti hanno già chiesto di venire perché pensano che sia magari una casa di riposo per farsi anche le ferie alla fine, perché lasciano male gli anziani, li lasciano lì, ma non è proprio così. Comunque è una bella struttura e sono fiero come consigliere di portarla a casa. A proposito delle problematiche, l'ha citato lei stesso prima, di una realtà come Iesolo, l'erosione delle spiagge, anche ci sembra, recentemente le mareggiate hanno provocato recentemente, parliamo di qualche mese fa, mareggiate hanno provocato danni, insomma è un'emergenza che ogni anno si ripropone. Qualcuno dice perché non è mai stato definito un piano di interventi vero e proprio? Strutturali. Strutturali, ecco. Allora, io entro nell'argomento, ma molto soft, nel senso che ritengo che sia stata buttata via una barca di denaro in questi anni e alla fine il problema non è stato risolto. Non dice niente. Vediamo tutti i comuni, Bibioni, Caorle, tutti quelli vicini a noi che hanno fatto sinergia tra sindaci per portare a casa un risultato. La regione Veneto, prendo spunto anche per il mio sindaco che è stato qui tempo fa e ha parlato di questo, noi come comune naturalmente abbiamo bisogno della regione, perché è la regione che decide. Però tramite l'assessore Bottacci, che è un assessore competente in materia, ha ricevuto i vari comuni e ha chiesto che chi ha un progetto consolidato e forte può portarlo. Il nostro sindaco, Valerio Zoggia, lo ha fatto e ha portato sì che intanto innanzitutto abbiamo la copertura della spiaggia per il 2017 e che non è poco per i turisti. Abbiamo l'impronta un po' strana in Impineta, perché lì c'è un'erosione più grande, però sempre con un progetto che è fattibile al 2018, ci saranno con un privato che farà sì, che al posto di fare un intervento, che sarebbe quel famoso pontile a mare, 200 metri al Mervil, ci darà la possibilità di investirli per fare pennelli a mare, fino al Piazzo Trieste e in poi. Ci permettiamo di interrompere un momento, perché qui il tempo incombe ed è sempre molto tiranno. Ci fermiamo alcuni istanti per dei suggerimenti commerciali, rimanete in nostra compagnia e soprattutto di Alessandro Perazzolo, nella duplice veste di Vice Presidente del Consorzio BIM Basso Piave e Consigliere Comunale di Maggioranza a Iesolo. A tra poco. Secondo momento di sette in punto questa mattina in compagnia di Alessandro Perazzolo, che finora ci ha parlato dell'attività come Vice Presidente del Consorzio BIM Basso Piave, adesso invece spostiamo l'obiettivo verso quella che è la sua seconda, seconda, diciamo verso quella che è forse la sua attività principale, anzi senz'altro, quella di Consigliere Comunale di Maggioranza in Comune a Iesolo. Soprattutto parliamo con lei e abbiamo l'occasione di parlare con lei, anche perché questa primavera si va al rinnovo dell'amministrazione comunale, questi cinque anni ovviamente si può a questo punto tracciare un bilancio, di quanto è stato fatto? Sì, certamente, questa amministrazione diciamo, partiamo già dal principio che all'inizio, nel 2012, togliamo tutti i segreti, abbiamo fatto un accordo PDL, PD e lista civica dove sono io consigliere e capogruppo, che è tutti per Iesolo, abbiamo fatto un accordo visto da qualcuno magari in maniera negativa, però ritengo che nei comuni non si fa politica ma si amministra e per me l'importante sono le persone con cui si va a amministrare, perché ritengo, e questo è un piccolo inciso, se io devo fare un accordo con un partito, faccio un esempio, noi siamo forti d'Italia, devo fare un accordo con la Lega, ma non vado d'accordo, non vado a fare un accordo con la Lega se non ci vado d'accordo, è inutile, perché poi ci ammazziamo quando andiamo ad amministrare. Preferisco invece fare un accordo con persone coerenti, serie, che mantengono il proprio ruolo e anche un po' di fedeltà, perché è un po' strana vedere ormai questa politica che passano da un altro all'altro, mollono da una parte all'altra, questa è mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, perché i cittadini mi dicono vai lì e mi votano per il mio sindaco e per me, io rimango lì e casomai se c'è qualcosa che non va, combatto all'interno della maggioranza, ma non vado all'opposizione per denigrare il programma che ho sposato con il mio sindaco. Certo, sono parole che noi registriamo questo programma, andiamo in diretta meglio con questo programma dagli studi di Padova, ovviamente è una realtà amministrativa dove le parole di Alessandro Perazzolo suonano ovviamente come un richiamo e un monito piuttosto importante. Iesolo non è una città che vive solo d'estate, è una città che ha ampliato per così dire il proprio raggio d'azione anche negli altri mesi dell'anno, non solo durante il Natale, c'è lo splendido presepe della Natività in sabbia, meraviglioso, ma ci sono molte altre iniziative, per cui quanto è difficile, complicato, complesso amministrare una realtà balneare, turistica, ma che vuole vivere anche il resto dell'anno? Sì, non è facile, perché abbiamo, a parte che quest'anno diciamo che è andata bene anche con il tempo, come parlavamo prima, però diciamo che abbiamo voluto quest'anno fare oltre di tutte le manifestazioni che abbiamo nell'ambito natalizio, abbiamo voluto investire su qualcosa di diverso, che è lo Iesolo Christmas Village, villaggio natale tanto pubblicizzato e che se posso le vorrei gentilmente concedere un pensierino da parte del sindaco Zoggia e dell'amministrazione a lei e alla sua redazione. Grazie, il Christmas Village, adesso magari non si vedrà molto bene da casa, è un insieme di colori, di luci veramente strepitoso che dà anche un'idea di come Iesolo si sia organizzata per vivere anche in una stagione un po' insolita per una località balneare. Diciamo che questo villaggio è stato voluto fortemente dal sindaco Lerio Zoggia, il quale diciamo che all'inizio è stato molto criticato, addirittura uscivano sulla stampa flop del villaggio ancora prima di iniziare. Io so del parere che una cosa prima bisogna viverla e bisogna crederci, perché un sindaco non lo fa per i propri interessi, ma lo fa per gli interessi della città e in questo caso per allungare la stagionalità, come lei mi chiedeva prima. Abbiamo avuto questa iniziativa, l'abbiamo voluta fortemente, è stato un nostro punto di forza per allungare la stagionalità, perché? Perché noi abbiamo il presepe di sabbia che è in piazza Marconi, il quale colgo l'occasione di dire che il prossimo anno 2018 avremo il presepe di sabbia in piazza San Pietro Vaticano e dunque questa è una notizia molto importante. Un anteprima. Esattamente e dunque avremo Iesolo a livello mondiale, facciamo conto a San Pietro il presepe di sabbia, non è poco. E questa nasce da un impegno del sindaco e da tante associazioni, ma anche un gruppo che ha lavorato affinché si arrivi a questo progetto. E nel frattempo è nato lo Iazzo del Christmas Village che ha fatto un collante tra piazza Marconi e piazza Mazzini, vedendo quelle belle giornate, perché io sono consigliere e mi si apre il cuore quando sento vedere queste cose, perché vedevi proprio la Maria di Gente che entrava nella spiaggia, faceva passeggiato, tornava indietro, andava nel villaggio e poi tornava in piazza Marconi. Poi c'era il trenino, il pendolino che correva su e giù, ma poi è stato bello perché i colori, la gente che rispondeva bene, qualche, diciamo, non voglio tirarmi dietro i commercianti, ma qualcuno mi diceva no, non ci crediamo. Poi alla fine ci hanno detto sì, se gli avessi scommesso dei soldi li avrei persi. Ecco, stavamo dicendo il gusto anche della scommessa di queste sfide. Sì, perché giugno a noi a Jesolo non è andato benissimo, c'è stato il mese di pioggia. Eh, è quello. E dunque molti commercianti hanno detto, con questa iniziativa, almeno quella parte di commercianti che va da piazza Marconi a quasi piazza Aurora, hanno detto effettivamente non solo quello, perché poi la cosa si è allargata anche nell'entroterra perché gente porta gente e altrimenti altre manifestazioni in giro. Però col segno di giugno negativo abbiamo fatto sì che nel mese di dicembre e i primi di gennaio abbiano acquistato, addirittura si parla di giornate di ferragosto, cioè incassi da ferragosto. Cioè gente che ha detto hanno chiuso magari qualche periodo per ferie perché stanchi, cioè attività che finivano tutto durante la sera, proprio lavoravano. E questo per un'amministrazione e anche per l'assessore al commercio, ma anche per tutta l'amministrazione in generale è un segno di soddisfazione. E questo è stato un allungamento perché se partiamo da Pasqua, Aprile, andiamo a Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, poi facciamo fino ormai a Ottobre ancora belle giornate, dunque arriviamo a Novembre che costruiamo il villaggio, si parte, dunque diciamo che di buca sono tre mesi e mezzo, però un po' alla volta vediamo di stagionalizzare il più possibile il tempo. Poi c'è quel famoso progetto di copertura della via principale che effettivamente sì, è ancora tutto in alto male, però per noi è un bel progetto che si potrebbe... Una copertura di via Bafile. Sì, sì, proprio una copertura anche sulla spiaggia, una parte di spiaggia, fare un esperimento. Questa è una cosa che si dice, poi realizzarla naturalmente noi con l'amministrazione siamo favoritissimi se ci fosse la possibilità, però è una bella cosa. Senta, una curiosità, ecco intanto il collega in regia Andrea Vernier sta proponendo purtroppo la spiaggia malinconica di Giugno, Giugno che lei stessa l'ha ricordato, ha un po' rivoluzionato quello che è proprio il concetto di stagionalità, cioè le amministrazioni di queste località come Iesolo devono a loro volta crearsi una stagionalità perché non esiste più la stagionalità, adesso magari è un discorso che non ha né capo né coda, ma ormai non esistono più, non solo le mezze stagioni, ma appunto assistiamo a dei maggio e giugno che sono piumosissime, magari a degli inverni dove arrivano due voci. Sì, di fatti noi su questa cosa abbiamo fatto sì con la fede consorci di fare un allungamento di ombrelloni, di chiedere di tenere un pochettino in più gli sdrai ombrelloni perché ormai il clima è cambiato, una volta si apriva a Pasqua negli anni 70-80 e già si lavorava e non serviva neanche più il cenere di scaldamento, adesso è tutto all'incontrario, però con la scusa che abbiamo dato la possibilità a, ripeto, certi alberghi si trovano che nel periodo di settembre, fine settembre vengono giù i turisti, pagano, faccio un esempio, 70-80-100 euro a notte, faccio un esempio, però non hanno più la spiaggia, secondo me allungando i ombrelloni magari quel poco, anche lasciarne un po' magari sui consorti, dai la possibilità di quel servizio che tu, il turista paga, è giusto che ci sia questo allungamento e quello è stato diciamo più che altro l'impegno e vediamo che grosso modo sì effettivamente anche a metà ottobre abbiamo ancora un bel sole e poi sabato e domenica a Jesolo, quando c'è il sole, non perché sono Jesolano, ma è imbattibile. Sì, sì, crediamo. No, no, indubbiamente, la domanda che volevamo farle, quanto ancora Jesolo, se ancora, soffre diciamo in tema di visibilità e di notorietà la concorrenza con le spiagge dell'Adriatico, parliamo in particolare della Romagna? Beh, io direi forse una volta, adesso no. Io ritengo che Jesolo sia conosciuta, naturalmente non si finisce mai di fare iniziative, di farla conoscere, di fare promozione turistica, fiere e quant'altro, però ritengo che noi l'unico handicap che abbiamo forse è non avere un'entrata a Jesolo semplice, abbiamo un'entrata che poi sappiamo benissimo ci imbottigliamo tutti, abbiamo fatto quel sottopasso che ha servito a deviare tra Cavallino e Lido, adesso c'è a breve, penso che partirà, spero, l'autostrada del mare perché io sono una persona che ci tengo affinché venga, di fuori di cosa e come... Alla mobilità e fondamentale. Sì, perché noi è là, abbiamo, diciamo io, una strada chiusa alla fine, non abbiamo un'autostrada che usiamo, usciamo, siamo diretti là, è giusto, però è apprezzabile perché? Perché siamo forti, perché se la gente fa un'ora e mezza di strada e a me dispiace, ma viene a Jesolo è perché ci tiene, la spiaggia è molto appetibile e non penso che siamo sotto altre spiagge, ritengo che siamo la prima spiaggia forse in assoluto. Noi ringraziamo Alessandro Perazzolo in qualità di Vice Presidente del Consorzio BIM in Basso Piave e di Consigliere Comunale della Maggioranza in Comune a Jesolo. Buon lavoro per la stagione che ormai è alle porte, perché insomma a Pasqua non manca molto, ma poi con queste giornate forse la voglia anche di venire a trascondere un weekend a Jesolo non mancherà. Buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie a lei, grazie ai spettatori che ci hanno seguito. Grazie, grazie al nostro ospite di questa mattina, Alessandro Perazzolo, noi ci fermiamo qui, ancora alcuni consigli per gli acquisti, come le definiva un collega molto più noto di noi e dopo ci sarà la seconda parte di 7 in punto. Grazie per averci seguito e alle prossime puntate, arrivederci.